Siamo da Pandora, pronti a fare razzia di pandorini con la promozione del 59 euro. Pronti, i prossimi siamo noi. Quale hai scelto? Questo. Ok. E questo. Più il bracciale. Quello rigido con la madre perlaceo. Penso che sono tutti qua per la promozione del 59 euro. Ecco ecco, tocca a noi. Grande emozione. Sì, stacca per il test. Sì, sì. Ok. E anche questo. Positività e staccia. Positività e staccia. Sì, 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 staccia per l'essence, è giusto. Quello rigido col cuore. Ma del per l'altro. Sì. Pensa se era finito. Pensa se era. Proviamo un po' la mia. 19. Avevo visto bene. Ormai ho l'occhio. Questa è bella. Non è grande. C'è anche più piccolo. Più piccolo è molto più piccolo. Possiamo provarlo perché non lo volevamo riempire. No hai ragione. È bello così. Vero? Ma c'è la scritta di dietro? Sì. You are so long. Vero? Vero. Non te ne accorgi? Tra. Perché non c'era 18. È la miseria. Questo è per bambina. Va bene. Ok. Puoi tenere il suo? Sì. Ascolta con le magnesite. Qual è? Uno di quelli che hai preso? Ascolta l'ultima cosa. Ce n'è uno. Questa è la magnesite che me l'ha data adesso. Ah ecco. È la positività esatto. Che è questa qua bianca. Ok ok. Se non ti sembra uguale è normale perché essendo pezzetti di pietra ogni pezzo è diverso. Quindi non saranno mai uguali. Di acciaio qua praticamente. No avevo solo la curiosità di sapere come era fatta la magnesite ma adesso mi sono tolto la curiosità. Ok. Sembra praticamente marbe. Sì sì sì. Più scura. Cioè più consistente. Ok. Va bene. Ok. Giudicato. Danno. Fatti danni. Fatti danni. Grossi danni. Allora. Con la promozione del bracciale abbiamo preso questa qui che è la spositività. Sì. In magnesite. E questa qui che è bellissima che è la speranza sempre dell'essence. E poi ho preso questo. Stupendo. C'è scritto You are so loved. Proprio. Bellissimo. Non credo che lo riempirò. No è bello così effettivamente. Però mi piace così. Ok. Adesso poveri. Poveri in canna. Proprio nel portafoglio. Nel conto in banca non c'è più niente. Niente. Abbiamo esaurito. Gli ultimi averi qua in tasca li usiamo per mangiare dal GFK. E il 27 è lontanissimo. Il 27 ormai è un miraggio. Però prima volevo andare a Toy Center. Toy Center. Andiamo visto che siamo poveri. A vedere. Terminiamo la povertà. Perché. Sembra incredibile ma non c'è da nessuna parte il fucile da cecchino della Nerf. Da nessuna parte. Io continuo a guardare. In alto a destra quando l'obiettivo in realtà è in basso a sinistra. Vabbè. Pausa. Visto che siamo all'arese bisognava fare per forza un giro al GFK. Così anche noi. È il KFC. È il KFC. È il KFC. È il GFK. No. Ma mai siamo degli esperti sul Mac e sul Burger King. Questo un po' ci manca. Dobbiamo farci un po' l'idea. Eh sì. Ma... Allora dai faccio il video ti mangi. Fai il video. Allora cosa che abbiamo preso? Abbiamo preso lo zinger piccante, le lette di pollo piccanti, le patatine e da bere. Perché a differenza del Mac, qui da bere lo paghi inizialmente ma poi puoi prendere tutto quello che vuoi. E quindi potete capire da soli quanto è lungo il bere. Infatti. No. C'è anche gente che viene qua con la bottiglietta dell'acqua vuota che viene direttamente di peso. Quello sono i furbi poveri. I furbi poveri. Potremmo farlo anche noi però. Non è una cattiva idea. C'è di quasi. C'è di quasi. C'è la tannica del 20 giù in mezzo. Andiamo a riempire la settimana. Scusate se le riprese dei video ci sono o io o lei come faccia. Ma il mio braccio è quello che è. E intanto per te sali. Sì dai lei ha parecchia. Bravissima. Vedi. Allora. Le spese grosse le abbiamo fatte. Pandora, Razzia. E poi tutto che abbiamo fatto. No. Siamo andati a un salto al 3 center. Ma il fucile del cerchino della Nerf non esiste. Non c'è. Non ce l'hanno. Non lo fanno arrivare. È grigio. Se glielo chiedi ti guardano male. Ti dicono. Forse perché c'è il... No. Non è perché c'è il video. No. 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 Perché potrei prenderlo per mio figlio. Pensato. Eh eh. Sono strategico io. Per mangiare bene sto facendo il video. Il canale è tuo. È lungo. O lei... È lungo. È lungo. Lei fa i video. Lei fa le monetizzazioni. È intanto su qua che mi infilo con il braccio. Lavoro. Va bene. Ma che monetizzazioni. Va bene. Va bene. Quindi Pandora fa. Eh. Pappa. Ci stiamo lavorando. Toy Center è visitato. Non c'era un tubo. Eh. Basta. Adesso pausa e poi giro. Allora. No. Taggett sono già stato prima. Primark. Giro al Primark. Eccoci da Primark. Che non è neanche pieno come di solito è pieno. Un po' di gente c'è. La missione di oggi trova dei pantaloncini. Non so in qualche aspetto. Lei è andata a provarli. Ce n'è di gente. Vabbè. Vediamo con cosa salta fuori. Otto quanto non c'è neanche altro. È andata a provare. Vediamo quante le stanno bene. Il cinquanto passo sta in... Poi faremo il video voi. Una cosa che di sicuro nessuno di voi colleghi uomini ha pensato. Se stanno uscendo tutte dalla cabina di prova, perché lei non sta uscendo? Saranno dieci minuti buoni che è entrata. Ancora non da segno di sé. Posso provare otto pantaloncini? Aspetto con pazienza. Io stavo già per scappare con una delle commesse e invece è arrivata. Allora, andiamo di là. Dove? Ma quanti? Quanti? Dove cambiare? Tre. Tre su otto. Ok. Gli altri vanno bene? No. No, sì, ma sono indecenti. Proprio indecenti. Ok. Chissà perché, quelli che ho selezionato io, vedo che li ha lasciati tutti là. Sì, dobbiamo andare su. Che erano bellissimi, tutti bei sfrangiati, tutti belli rotti, mimetici, bellissimi. Li lascio di là. Sì, sono molto magre. Ma che per magre. Perché tu sei grassa. Sì. Vabbè, andiamo a cambiare la taglia di quelli che ha trovato lei. Vado a spendere 50 euro da Primark. Così, assolutamente non preventivati. Erano preventivati 8 euro. Sono arrivati a 50. Vabbè. Lasciando giù le cose indecenti. Secondo lei? Eh, ma abbastanza indecenti, eh. Beh, comunque, non c'è praticamente volta che andiamo da Primark e non usciamo con qualche sacchettino di roba. Con qualcosina. Con qualcosina. Piccolina. Sì, perché poi ti fregano, perché il singolo prezzo custa poco. Quindi sei portato a prenderne più di uno. Eh, certo. E poi esce questo sacchetti pieni. Ah, 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 ah. Qua si sta avvicinando la pizza di Alice. Mamma mia. Che è un'altra delle nostre tappe fisse. No, no, no. Dai. No, no, no. Quasi fisse. No. C'è un'altra delle che dice no, 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 tanto poi ci fermiamo prima di uscire. Adesso non so dove mi sta portando. Davi l'idea. Davi l'idea, ecco. E andare a Davi l'idea. Certo. Davi l'idea. Che bella idea andare a Davi l'idea. E non è la Chiatin. Ma la Chiatin non c'è mai niente. No, Chiatin fa idea di pressione. Chiatin in realtà è Chiavi. Eh, eh. Chiatin. Non so se la scritta era giusta, se la vedete all'incontrata. Ah, va bene. Andiamo da Viridea. Se il video viene mosso perché stiamo camminando, il mio braccio si sta stancando. Viridea, eccoci qua. E adesso prendiamo la granita. Fila per la granita. E dopo la granita penso che torneremo a casa. Beh, intanto, per chi non l'avessi mai visto, qua c'è il centro commerciale di Arese. Il centro. Poi viene una parte, eh. Eccoci qua. Piccola la granita del libro. Granitina. Un fattano e lo stupo. Sì. Questa è la consistenza. Va bene, fai vedere. Col mattone. Va bene anche per fare dei muretti volendo. E' stata una giornata abbastanza produttiva. Che maiali. Non viene mica su. Come puoi venire su? È panna. Vabbè. Sta gocciolando l'acqua. Basta che sporti i pantaloni. Infatti che poi non ne ho più. Non ne ho più. Non ne ho anche i soldi per comprarne di nuovo. Ha speso tutto lei. Vai da prima. Eh, ridi, ridi. Vedi che a me mi ha fatto gignocci. Mi ha smettito, è simpatico. Ok. No, ma sta arrivando l'apocalizza. Sì, infatti. Adesso non si vedrà. C'è un cielo nero, nero, nero. Vabbè. Adesso mi mangio la mia granita prima che si sciolga. Ah, vabbè. Eccoci qua. Eccoci qua. Rotta verso casa. Di Dio. Che si angiola con la festa. Mì, quando sono vecchi. Sì, sì, è serio. Facevo fatico anche io a ricordarmi. Pensa a te. La muffa. 8-8-3, vecchia maniera. 8-8-3, è serio. Allora. Conclusione della giornata. Dunque. 19. Cosa? 8-8-8-8. Sì. Vai, vai. Vai, vai, vai. Primi acquisti. Primi acquisti. Spinner. Spinner. A tutto andare. A tutto andare. Spinner a tutto andare sempre. Quindi, aspettatevi un video di comparazione degli spinner. A tutto spinner. A tutto spinner. Ok. Poi. Fluffy slime. Fluffy slime. Però meno, perché alla fine quanto ne abbiamo visto? Due. Due fluffy slime. Primi acquisti. Poi. Poi. La trottola. La trottola. La trottola. Sarebbe il peggio cagato che abbiamo comprato oggi. No, beh. Poi abbiamo preso qualcosa da... No. Abbiamo preso niente da Primark. Come no? No, da Tiger. No. Cosa roba. Ah sì, Tiger. Poco. Pochissimo. Pochissimo da Tiger. Due cavolazioni. Sì. E poi, vabbè, Primark. Primark. Come se non ci fosse un domani Primark. Pandora. Come se non ci fosse un domani Pandora. Esatto. Quindi, nuovo video... Figge spinner. Nuovo video Pandora. Nuovo video Primark. Nuovo video Primark. Yeee. Siete a posto tutta la settimana. Siete a posto per me la settimana. Anch'io sono a posto per editarli tutti. A posto. Bon. Bon. Adesso ci aspetta solo la strada per tornare a casa. In coda. In coda, ovviamente. Non si ha mai. Tutti ci vanno a casa da qui. Va bene. Prima tutti in coda per andare, adesso tutti in coda per tornare. Yeee. Va bene. Va bene. Ciao. Ciao, alla prossima. Alla prossima video. Eccoci qua a casa, finalmente, dopo il megagiro di oggi. E vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto appunto da Pandora. E con la promozione che c'è adesso appunto del bracciale in omaggio, nel senso che se si spendono 59 euro in qualsiasi cosa, in store, vi regalano la metà del nuovo bracciale in omaggio e vi fanno lo sconto di 30 euro. Allora, come charm normali del moment, non mi piaceva più niente, praticamente, li ho tutti, aspetto la collezione nuova. Mentre per l'essence, che è questo qua, che è quello della positività, è fatto in magnesite, così c'è scritto. E ha questo effetto un po' tipo marmo, marmorizzato. E poi ho preso questo, che è quello nuovo, che è il charme della speranza. Ho fatto così, e dietro ha il foro, a forma di cuoricino. Questo qua è proprio strapieno, questo essence, altro che essence. Tanto c'è l'amica che si struscia, vabbè. Dai che non vedo... Ed è venuto così. Le ho pagati 39 euro l'uno, dovrebbero costare. Più o meno sono i prezzi base di una pallina dell'essence. E con la promozione, ho preso questo bracciale. Quello rigido, che è già fuori da un po'. Dove c'è scritto You are so loved. Ed ha il cuoricino smaltato, bianco. La misura è 19, l'ho preso con lo sconto di 30 euro, dovrebbe costare 69 euro, l'ho pagato 39. Se acquistate anche voi questo bracciale, state attenti, infatti io l'ho fatto sostituire subito, praticamente sono uscita dal negozio e poi sono ritornata dentro. Perché dovete stare attenti a come è smaltato il cuore, perché in alcuni punti, almeno quello che mi avevano dato, era tipo un po' sbeccato. Passandoci sopra col dito così, non era perfettamente liscio, ma si sentivano tutte le zigrinature, si guardava attentamente, si vedeva appunto che mancavano, era come sfogliato in sostanza. E quindi non mi piaceva, non era giusto secondo me, infatti questo qua è liscissimo. Poi ovviamente c'ha tutte le sue venature dello smalto, ma quello ci sta. E niente, questa qua è la mia promozione Pandora, la mia promozione è quello che ho acquistato durante la promozione che c'è adesso. La promozione, vi ripeto se non avete guardato quel pezzettino lì di video, dura fino a domenica prossima, quindi se spendete 59 euro in charm o prodotti, qualsiasi cosa, collane, anelli, orecchini, qualsiasi cosa, anche un altro bracciale, se vi comprate un altro bracciale vi spetta la metà di un bracciale, quelli da 59 euro, praticamente scontato la metà, oppure quelli che costano di più vi fanno uno sconto di 30 euro. Ok, ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questo vlog barra all vi sia piaciuto, vi siete divertiti con noi, iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video, ciao, ai prossimi video! Ciao!